eccoci di nuovo qui vediamo questo video con questo rottame che sta per cadere sulla terra sentiamo cosa ci dicono alla fine stasera mentre continua a girare attorno nessuno sa dove va a finire la cina ha abbandonato la stazione spaziale nel 2016 quando ha iniziato a perdere altitudine iniziando a cadere verso la terra ma quando e dove ha indagato prima di tutto ditemi per quale motivo ci fanno vedere questa fottuta finta palla qui dobbiamo guidare un satellite non credo sia questo quello che stanno vendendo alle masse quando escono con questi film di fantascienza con questi satelliti la parola abbandonato hanno abbandonato significa che ricadrà sulla terra ma sono tutte palle questi presunti satelliti sono 35.000 35.000 dove affermano che ruotano attorno alla terra e solo quello della cina cade sono tutte palle e come ho detto non dovete credere alle news possibile che non hanno alcun oggetto qui sotto per mostrarvelo eppure ci mostrano le immagini dei passaggi della iss riprese da terra è opera del diavolo al cento per cento coloro che adorano il dio dall'unico occhio onni veggente o cercando di vendervi questa palla fasulla ancora una volta che è fantascienza al cento per cento nessun dubbio immaginate questo la stazione spaziale ruota fuori controllo sfrecciando verso la terra sono tutte immagini grafiche computerizzate gente sono false al cento per cento non riesco a capire come fa la gente a papparsi questo stanno vendendo solo sogni alle masse inizierà ad incendiarsi nell'atmosfera e si schianterà a terra nei prossimi giorni cadendo da qualche parte fra i 43 gradi nord 43 eccolo il numero 7 proprio qui 4 più 3 7 nessun dubbio su questo non dimentichiamo mai i numeri satanici e i 43 gradi sud che comprende molti degli stati uniti se vi sembra spaventoso l'esperto spaziale john loxton dell'università george washington ha alcune parole da suggerire relax quindi la possibilità che qualche pezzo che questa cosa colpisca qualcuno sulla terra è molto scarsa teorie ma che state dicendo relax volete che ci rilassiamo mentre iniettate nei cervelli della gente che questa cacca cadrà e colpirà qualcuno quello che abbiamo proprio davanti al naso è al cento per cento una palla una programmazione programmare le masse farle credere che viviamo su una palla rotante d'acqua che viaggia a migliaia di chilometri per ora all'equatore sono tutte palle scarsa molto scarsa ma non zero ok non zero ma le possibilità sono di un miliardo di volte più piccole che vincere il jackpot powerball perché anche powerball come il razzo è un modo per rincitrullire le masse al cento per cento un sistema ponzi non c'è alcun dubbio su questo se vi vendono che la terra è una palla rotante la sola cosa che fanno è che diate a loro i vostri soldini per tutte queste cose fasulle quindi veramente rilassatevi la cina ha inviato la stazione spaziale tiangon nel 2011 e tiangon significa palazzo celeste tutto quello che fanno è deridere dio palazzo celeste tutto quello che fanno è prendere in giro dio e le persone non riescono a capire questo che deridono l'onnipotente con tutte queste palle lanciano i razzi ma non riescono ad uscire dalla cupola questo è quello che dovete comprendere ma in realtà più di mezzo milione di pezzi di spazzatura spaziale orbita la terra più di mezzo milione di spazzatura orbita la terra con questi satelliti e nessuno di loro è entrato in collisione mai nessuno ha mai colpito un altro state prendendomi in giro è una falsità al cento per cento gente e questo è quello che fanno queste scimmie di pastori proprio qui le loro menti che si aggrappano queste fandoni e non c'è alcun dubbio su questo si tratta di sola spazzatura che vendono alle persone è come un rientro fuori controllo sì proprio così un rientro fuori controllo tutto quello che vi vendono sono palle davanti ai vostri occhi non c'è alcun dubbio su questo tutti lo sanno è come un camper nello spazio e tutti noi lo abbiamo imparato da bambini che quello che va in alto deve tornare giù ecco qui queste sono persone vere che mostrano delle foto fasulle di questi cosiddetti satelliti proprio qui insieme alla terra palla fasulla è tutto finto al cento per cento sveglia quello che va in alto deve tornare giù gradualmente ma torniamo indietro come un camper nello spazio e tutti noi lo abbiamo imparato da bambini che quello che va in alto deve tornare giù boom ecco qui cosa vi ho appena detto tutto quello che va in alto deve tornare giù allora perché prendono in giro le masse dicendo che tutti possono andare su fino a che si inizia a fluttuare e poi quello che va in alto deve tornare giù e questo gente è quello che sapete stanno prendendo in giro la gente al cento per cento vi stanno prendendo in giro tutto quello che va in alto deve tornare giù come diavolo fanno a fluttuare i satelliti sono palle al cento per cento gradualmente rallenta nel tempo rallenta e rallenta allora com'è che i satelliti o la iss cade dopo aver rallentato perché no pensate che i motori che non possono funzionare nel vuoto siano in grado di non farla rallentare e la terra perché non rallenta eh quella non rallenta mai sono palle al cento per cento col tempo non va più così veloce per rimanere in orbita cos'è che lo fa andare più veloce come fa a mantenere quella velocità nel vuoto i motori non funzionano wow ci dicono che c'è il vuoto nello spazio ma la spinta dei motori non funziona come cavolo fanno ad accelerare o rallentare anche con qualcuno che li controlla sono palle al cento per cento le estrazioni spaziali vi suonano familiari probabilmente avete visto gravity con sandra bullock la sola cosa di riferimento sono le burle di questi film la sola cosa dove fare riferimento gente sono i film lo spazio è completamente finto hanno realizzato tutto negli studi e questo è quello che dovete comprendere hanno dovuto portarvi nelle guerre spaziali in gravity e tutte queste fandonie sono film al cento per cento è tv quello che dovete comprendere nulla è reale di quello che vi passano quello che dovrebbero passare è la vita reale gente guardate qui cctv è il numero 33 nella numerologia dei fottuti massoni questo è quello che dovete comprendere si trova proprio là sopra davanti a voi a sinistra cctv news wow ed il vero tiangong che colpirà la terra è ancora in cielo a questo punto sappiamo che più o meno in un paio di giorni il primo aprile è probabile il rientro al pesce d'aprile pesce d'aprile eccoli qui con la presa in giro ci tengo a dirvelo gente al pesce d'aprile il giorno del possibile schianto il primo aprile wow gente avete bisogno di svegliarvi tutto quello che vi offrono sono palle per tenere le masse intontite non c'è alcun dubbio il primo aprile pesce d'aprile un detrito spaziale con un senso di humor chip rib cbs news wow gente è tempo di svegliarci di non credere in questa stupidata e non pensate che smetta fin tanto ci sono queste fake news non mollo ma resto qui